Questa espulsione che ci ha tagliato un po' le gambe dopo tre minuti, poi però non ci siamo stati. Eravamo carichi prima della partita, eravamo pronti per questa sfida, ma purtroppo qualcosa è mancato. Ora dobbiamo tirarci sulle maniche, venerdì è vicino, dobbiamo stare uniti tutti insieme e abbiamo la possibilità di rifarci venerdì e dobbiamo sfruttarla subito. Ci ha detto comunque che l'episodio è stato quello che è stato, però non dovevamo disunirci perché se no rischiavamo veramente di prenderne tanti. Quindi dovevamo cercare di stare più compatte, più squadra possibile, che soprattutto è su quelle cose che si vede il gruppo e ci abbiamo provato nel secondo tempo. Io non cerco scuse, gli undici che siamo andati avevamo le capacità e le possibilità di far bene. Eravamo carichi prima della partita, purtroppo non è andata così. Ora dobbiamo essere bravi a reagire, stare in squadra, essere uniti, essere un gruppo soprattutto in questi momenti che si vede. Quindi già da venerdì dobbiamo essere bravi a reagire.